Alla vigilia della data di apertura delle scuole in Puglia, stanno facendo discutere le nuove regole introdotte dal liceo scientifico Salvemini di Bari. L'istituto, dopo una sperimentazione fatta la primavera scorsa, ha varato quest'anno un sistema all'americana, istituendo aule dipartimentali con gli studenti che a fine ora si spostano da un'aula all'altra, invece dei professori che resteranno fermi. Con una circolare, la preside Tina Gesmundo ha dato indicazioni molto precise per evitare ingorghi e caos nei corridoi. I corridoi, scrive la dirigente, devono essere percorsi camminando a destra e favorendo il flusso nei due sensi di marcia. Gli studenti devono muoversi in silenzio e correttamente per gruppi di classe, possibilmente in fila indiana. E se i due flussi si incrociano, la classe rispetta la precedenza a destra, senza mai dividere i gruppi classe in transito. La circolare invita gli studenti che devono raggiungere l'aula dipartimentale prevista dall'orario delle lezioni, a farlo entro quattro minuti senza attardarsi e seguendo il gruppo classe. Un decalogo che sta sollevando un vero e proprio caso, dopo la pubblicazione sul Fatto Quotidiano Online, di un articolo che parla di codice militaresco. Anche la CGL Bari, insieme all'FLC CGL e all'UDS provinciali, ha chiesto spiegazioni sollecitando un incontro urgente alla dirigente scolastica, al Consiglio di Istituto Tutto e ai rappresentanti degli studenti.